1-0-0 Nel primo passaggio non riusciamo a salire la gestione della palla, mentre col Mantua abbiamo sempre potuto salire grazie al lavoro degli attaccanti formidabili, oggi facciamo fatica. Sfortuna perché abbiamo perso un Antonio che aveva fatto vedere nell'infortunio proprio di cosa è capace, è partito dalla sua metà campo, è arrivato fino a fuori aria e aver perso lui in una partita dove gli spazi erano pochi, aveva molto entusiasmo il ragazzo di tornare a giocare, si è sfortuna proprio per l'infortunio che ha avuto. Però nonostante tutto abbiamo avuto due o tre occasioni clamorose, però devo dire che il saldo finale non è a nostro favore di sicuro. Nel annato ha fatto una partita giusta, ha giocato bene, ha corso bene, le cose in più grosse abbiamo avuto noi però hanno avuto anche loro diverse occasioni. L'ultima particolarmente ci ha salvato Branduani, quindi un pareggio che deve essere accettato, però oggi non abbiamo fatto una grossa partita, questo però può capitare. Sembra che ai ragazzi serva proprio una vittoria anche per ritrovare quello spirito, per ricompattarli, a Monza sarà ovviamente dura e non ci sarà Ranellucci. Sì, ma hai visto il campionato nelle ultime partite, noi nelle ultime tre partite abbiamo fatto tre pareggi e noi abbiamo perso un punto sull'inseguitrici. Questo è un dato che bisogna anche guardare, se te ne piange Sparta non ride, la famosa frase, perché noi se addirittura Real Vicenza dovesse perdere stasera con Novara, che potrebbe anche capitare, non lo auguro perché Michele è un amico caro, però addirittura potremmo allungare sulla settima. Non è cambiato niente, ha perso il Manto, ha perso Pordenone, la Torres ha pareggiato col Monza, il Venezia, tutte quelle dietro hanno faticato, il Sud Tirola ha pareggiato l'Umezane. Segno che i punti adesso diventano fondamentali, anche il punto diventa particolarmente gradito, le squadre sono tutte imbottite, i centrocampisti, tutti e cinque giocatori messi bene, poi oggi obiettivamente a livello fisico il Renate ha avuto qualcosina in più perché le seconde palle le hanno gestite molto meglio di noi. E succede, però manca proprio quella vittoria che può dare ancora quello spunto perché i ragazzi ci tenevano a vincere oggi, e la classifica per far capire che non vogliamo mollare minimamente, non perché abbiamo raggiunto una salvezza veloce, perché i playoff si sono un po' lontanati, no, noi vogliamo mantenere questa posizione di classifica, assolutamente, se possibile provare ad attaccare anche il Como addirittura. Ci serviva una vittoria per fare questo, non è venuta, però chiedo proprio pazienza perché fino alla fine noi daremo modo di far capire che il nostro campionato è un campionato che dovrà finire in crescenda.